Il giardino zoologico marchigiano dà il benvenuto a Pietro, un cucciolo di cammello. Il nuovo arrivato è venuto alla luce al termine di una gestazione di 12 mesi. Il piccolo è il terzo figlio di Clara e Orazio che formano una coppia solida dal 2011 e verrà allattato dalla madre per circa un anno, periodo necessario alla formazione delle sue caratteristiche gobbe. importanti riserve di grasso di cui al momento è privo. La nascita di un animale rappresenta sempre una grande gioia per lo zoo, un momento di tenerezza ma anche un'opportunità per diffondere tra i visitatori la conoscenza della specie.